Io voglio fare una domanda a tutti di voi azzurri che hanno assistito alla partita. Quanto abbiamo goduto? Personalmente ho goduto sia la vittoria ovviamente, ma ho goduto anche perché ho visto una bellissima squadra, una bellissima santovannese dal primo al novantatresimo al novantavattesimo. Già dai primi minuti una fame di vincere che non avevo visto in altre partite e quindi la nostra vittoria te l'ha meritata perché oltre a vincere abbiamo stradominato un tifernoletti che sinceramente dalla classifica che ha e dai giocatori che ha personalmente mi aspettavo qualcosa di più. questa vittoria ovviamente mi annisco anch'io la dedico a Veloce e soprattutto a Sauro alla quale mando un abbraccio forte forte forte. e a tutti quelli e a tutti quei divorzatori ieri da lassù sicuramente avranno visto una grande, grande, grande partita. continuiamo così perché ancora non è assolutamente finita, abbiamo sicuramente allungato, però ancora è lunga. quindi io vi auguro una buona Pasqua, una buona Pasqua a tutti, a tutti i tifosi azzurri e a tutti i ragazzi che scrivono sul Fortasangio, tranne uno, tranne uno ovviamente, che ha la malla di Milan, non faccio nomi ma tanto ha capito di chi parlo, anche perché è il direttore del SISO. quindi, a parte gli scherzi, buona Pasqua a tutti e sempre Forza Sangio. Ciao.